Ciao a tutti, oggi prepareremo le fettine cremose e funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Ingredienti sono fettine di vitello, funghi misti surgelati, olio evo, aglio, acqua, vino bianco, concentrato di pomodoro, latte, panna da cucina, prezzemolo, sale e pepe. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio e l'olio. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio. Aggiungere i funghi. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. aggiungere il concentrato di pomodoro e il vino bianco. Ed azioniamo il bimbi per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft senza misurino. Aggiungere l'acqua, il latte, il sale, il pepe. Chiudere con il coperchio. Posizionare il varoma sul quale abbiamo messo le fettine di carne e le abbiamo salate e pepate. Il varoma e il bassoio del varoma sono state unte con olio. Chiudiamo con il coperchio e facciamo cuocere per 30 minuti. Temperatura varoma. Velocità soft. La carne è cotta. Trasferiamola in un piatto da portata. Aggiungere nel boccale la panna. ed il prezzemolo. E cuocere per 5 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. La salsa è pronta. Versare sulle fettine e servire. Fettine cremose e funghi. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti.